Ciao, sono Daniele Bruno e lavoro presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel Laboratorio di Biologia degli Invertebrati. Nel mio lavoro di ricerca mi occupo dello smaltimento dei rifiuti organici tramite l'utilizzo delle larve di insetto. È stimato che circa un terzo del cibo prodotto ogni anno venga perso o scartato e quindi debba essere smaltito. Con l'utilizzo delle larve di insetto noi siamo in grado di smaltire questo materiale di scarto facendo nel contempo assimilare proteine alle larve. Questo processo di bioconversione permette di ottenere come scopo finale della farina di insetto che può essere fornita ai pesci in acquacultura. L'Università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'Università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi.